buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di pillole di tecnologia oggi parleremo di siti web quindi la diversa tipologia di siti web come mai fare un sito web e tutto quello che è applicato la parte web proprio vediamo dalla parte un po più di vetrina non dalla parte di produzione come potrebbe essere un e-commerce ma adesso lo ragioneremo diversamente dalle altre volte abbiamo come ospite Pietro Cortinovis di web che solitamente sei un mio collaboratore esatto spalla per e invece oggi siamo solo noi due perché vogliamo appunto parlare di web e come vi ho detto già nelle precedenti puntate Pietro si occupa esclusivamente di quello è proprio il suo core business è proprio il suo il suo target quindi prima di tutto giusto per far capire alle persone dici cosa fai te nella tua azienda che si chiama appunto e-web e di che cosa si occupa e-web così almeno la gente che ti ha già visto almeno ha maggiori idee di che cosa ti occupi e come. Allora io parto dal nostro pay off cioè al nostro slogan ok che è web tailor design e marketing ovvero noi facciamo web design disegniamo il web ok disegniamo i siti disegniamo tutte quelle che sono le attività sul web ma anche web marketing cioè facciamo attività strategie e azioni affinché un sito possa o un'attività sul web possa portare un ritorno commerciale quindi il marketing a supporto del commerciale. Taylor ovvero lo facciamo su misura nel senso che alla base della nostra attività del nostro modo di sviluppare il web c'è sempre quello di capire l'esigenza di un'azienda e partire da quella per sviluppare un'azione veramente fatta ad hoc per questa azienda nel senso che è praticamente impossibile oggi standardizzare il web. Ci sono un'infinità di possibilità un'infinità di opportunità e un'infinità di rischi per evitare i rischi e di buttare via i soldi bisogna cercare di capire per ciascuna azienda per ciascuna partita viva che attività fare. Quindi va fatto un'analisi su misura partendo proprio dalla necessità dell'azienda. Ok quindi nel senso anche tutto lo studio mi dicevi in funzione di quello che ho appena detto lo studio dell'azienda che cosa fai perché perché io mi ricordo anni fa che c'erano aziende che come si dice come se fossero una catena di montaggio avevano il modellino del sito ma ci sto parlando di un po' di anni fa. Ci sono ancora aziende che hanno il template del sito che questa azienda ce l'ha rosso, quell'altra verde e quell'altro blu e però effettivamente anche poi a livello di ricerca così non vale niente anche dal punto di vista di aggiornamento non riesci mai a aggiornare niente. Anche perché oggi scopriremo una cosa che non è obbligatorio avere un sito internet, non è obbligatorio averlo, quindi attenzione che è più complicata. Va bene allora partiamo dall'inizio, quindi c'è una domanda logica che infatti ho anche raccolto delle domande che ci hanno fatto sui social e infatti ringrazio tutti anche di aver partecipato ai sondaggi perché noi ogni tanto sui nostri social pubblicizziamo la puntata che andremo a fare così voi potete scriverci tutte le domande poi da riferire al professionista della situazione. E quindi diciamo che tra le varie domande che mi sono appuntato la più semplice è perché un'azienda dovrebbe avere un sito internet? Allora prima di tutto partiamo da cos'è un sito internet. Internet è sostanzialmente un mondo, è un mondo virtuale all'interno del quale uno deve avere un suo sito ovvero uno suo luogo. Il luogo all'interno di internet rappresenta l'azienda, è come se fosse la sede piuttosto che la vetrina piuttosto che il punto vendita. Il sito è all'interno del mondo di internet esattamente quello, così come noi abbiamo un capannone o un ufficio all'interno del quale lavoriamo, il nostro sito fa esattamente quello nel mondo di internet. Quindi un'azienda perché deve avere un sito? Perché evidentemente se ha una sede fisica deve avere una sede anche nel mondo virtuale del web. Deve, dovrebbe perché poi dipende da quale è il suo obiettivo perché per esempio un'azienda potrebbe volere che qualcuno vada nella sua sede ma potrebbe volere che nessuno vada nella sua sede. Se nessuno deve andare nella sua sede reale, probabilmente non ha bisogno di un sito. Non ha bisogno di un sito. Perché nessuno... Però io direi che nel senso al giorno d'oggi anche solo se devi cercare qualcuno vai da Google, un conto è vai in Google e ricerchi una persona e poi magari dopo spiegheremo bene anche tutta la parte di ricerca, però cerchi una persona o cerchi un'azienda, effettivamente quelle pochissime ricerche al giorno d'oggi che ti escono, che ti esce il nome dell'azienda senza un sito internet ufficiale dove almeno puoi andare a vedere chi sono, che cosa producono, perché... Vuol dire che quell'azienda non vuole essere cercata. Non vuole essere cercata o non sa ancora. Oppure, allora, se non vuole essere cercata ha risposto a un suo obiettivo. Infatti poi parleremo da dove parte, dall'obiettivo. Se invece vorrebbe essere trovata e non c'è, vuol dire che qualcosa non funziona. Ok, ok, ok. Quindi, ok perché avere un sito internet, allora adesso quali sono i tipi di siti internet che esistono e come vanno praticamente impostati o gestiti in funzione della richiesta? Quindi quali sono i siti internet che esistono? Cerchiamo, chiaramente, facciamo una sorta di catalogo di siti internet. Ho detto che ce ne sono probabilmente molti di più di quelli che presenteremo, però cerchiamo di dare un'idea un pochettino chiara. Ma andando a focalizzare quali sono le caratteristiche di questi siti, cioè cos'è che cambia in questi siti. Tra una cosa. Allora, il primo è la landing page, ok. Allora, la landing page è un sito a tutti gli effetti, però tutto quello che succede all'interno di questo sito si svolge all'interno di un'unica pagina. Quindi non esistono sostanzialmente sottopagine. Facciamo un esempio, qual è un esempio tipico di landing page? Promozione telefonica, ok. Quindi ADSL a 19,90 euro. Di Vodafone, facciamo un nome a caso, non mi interessa, può essere qualsiasi altro. Per quella promozione, Vodafone o chi per esso, non gli interessa farmi sapere tutto quello che fa. Vuol parlarmi che fa i telefoni, sta spingendo quell'offerta. Farà una pagina unica all'interno della quale mette solo ed esclusivamente quel prodotto, quel servizio. Io vi sto portando Tecno System, che è stato uno dei nostri ospiti. Dei Fibrillatori Bergamo, Tecno System fa molto di più, ce l'aveva raccontato, che non fa solo dei Fibrillatori. Però per il prodotto dei Fibrillatori ha scelto di sviluppare una landing page, perché quella pagina deve raccontare tutto ciò che riguarda quel mondo e soprattutto, in quel caso, deve raccogliere contatti. Quindi non me ne frega niente che ci sia un sito, è una pagina unica, quella è la landing page. Dopodiché c'è il sito vetrina, che si differenzia dal sito SEO. E' un po' quello che dicevi tu prima, un sito vetrina è considerato come un negozio. Un negozio che non ha bisogno che la gente entri, è un po' strano però dopo lo approfondiamo, perché probabilmente la gente entra già. Ok, quindi gli serve solo di esporre? Un vetrina, di far vedere che lui esiste, la gente entra già, non ha bisogno che ne entri di più. Lui ce l'ha già, ok, facciamo come se fosse un supermercato, ok, io entro, vado già al supermercato, devo mangiare, non ce ne vado a fare. Il sito SEO invece è un sito che ha la base, la SEO Search Engine Optimization. Engine Optimization vuol dire motori di ricerca, Google. Google della situazione, ok. Il 99% Google, il che significa che io mi aspetto che l'utente che inserisce una serie di chiavi di ricerca su Google, arrivi al mio sito. In quel caso il mio sito dovrà essere in grado di soddisfare le esigenze di Google, ovvero di soddisfare il fatto che quella keyword mi rappresenta. Allora, il sito vetrina e il sito SEO rappresentano un'azienda, spiegano un'azienda. Il sito vetrina non gliene frega poco o niente di Google, ok, magari sì, giusto, la keyword col nome azienda, però ammetti che questa azienda vende plastica. Non me ne frega niente che nessuno mi trovi come vendita plastica Bergamo. Mi troveranno col nome, ok. Mentre il sito SEO avrà la necessità che vendita plastica Bergamo, arrivo io, devo uscire nella prima pagina, nella seconda, in quello che è, devo uscire il mio sito. Prima di riuscire a superare la concorrenza di tutta la quantità di altri. E' esserci, perché l'attenzione è che fare un sito non vuol dire essere sui motori di ricerca, è l'esatto opposto, perché fare un sito e essere sui motori di ricerca vuol dire fare un sito SEO, quindi fatto apposto. E farsi tutta un'attività dopo che effettivamente serve per farti trovare. Esatto, che è un'attività tecnica da un lato, ma anche strategica dall'altro, perché vuoi farti trovare per quale parola. Certo, devi scegliere la parola. Qual è la tua concorrenza? Questo posso dire che, nel senso, l'ho provato sulla mia azienda, perché avendomi fatto te il sito internet, noi se non sbaglio abbiamo fatto un sito SEO, ok? Assolutamente, ci mancherebbe altro. Esatto, che oltretutto è anche un po' più di un sito SEO, perché dopo ci abbiamo collegato determinati servizi, determinate automazioni collegate al gestionale e ok. Che poi lo vediamo. Che poi vediamo anche quello. Però dico, la logica, la logica anche nostra, è stata appunto di vedere su quali parole, con quali parole gli utenti ci potevano trovare. Quindi nel nostro caso, mi ricordo, assistenza informatica Bergamo, piuttosto che assistenza Apple, assistenza Mac. Cioè, alcune parole che ai tempi mi hai dato una scaletta da elaborare e con quella scaletta voi siete riusciti a... Abbiamo fatto tutte quelle azioni tecniche che hanno portato, assistenza Apple Bergamo, ok, a KK Style. Ok, ok. Questa cosa non è assolutamente scontata, non è assolutamente automatica, ok? E non è facile, nel senso che... Sì, quello ho visto. Qua torniamo sulle famose aziende col template, ok? Sì, sì. Posizionare 15, 20, 30 parole in prima pagina su Google non è una passeggiata, ok? Ed è anche molto difficile garantirlo. Perché è difficile garantirlo? Perché dipende dalla concorrenza. Esatto. Se ce ne sono... Se ci sono 20 aziende che vogliono essere in prima pagina con quella parola, la prima pagina ha 10 risultati. Fine. Quindi sarà impossibile garantirti la prima pagina, dovrai giocartela tra i venti per cercare di arrivare, dovrai essere più bravo, dovrai essere nelle prime 10 posizioni. Quindi questo anche per la gente a casa che sta ascoltando, che magari è un sito che sta facendo delle operazioni di SEO, è importante far sapere di stare attenti che non vi stiano vendendo parole, nel senso, perché nessuno garantisce a nessuno di essere in prima pagina, a meno che... Non fai una serie di azioni. A meno che non fai una serie di azioni, come adesso ci hai spiegato, o comunque c'è anche da dire che c'è anche la gente che fa AdWords, cioè gente che paga... Che quello non è SEO, ma è SEM. Esatto. Perché è Search Engine Marketing. Però c'è comunque altri risultati sopra che... Quelli sono gli annunci a pagamento. L'annunci a pagamento. E tutto quello che esce. Tu lì te ne puoi anche strafregare di fare un sito SEO. Perché l'annuncio a pagamento è in prima pagina, a prescindere... Tu potresti avere anche un sito fatto malissimo, o una landing velocissima. Sono proprio due mondi totalmente differenti. Perché è l'annuncio che ti porta l'utente. Non è la chiave di ricerca che ti fa indicizzare e quindi poi ti porta l'utente. È l'annuncio. L'annuncio che lavora su chiavi di ricerca esiste a prescindere. Basta che paghi. Quindi uno potrebbe avere una landing page, un sito vetrina, per assurdo. Fa un annuncio con Google e quello ti fa uscire a priori indipendentemente. Pensa che gli annunci a pagamento potrebbero addirittura anche non avere un sito. Fanno partire una chiamata. Fanno partire una mail. Ah, nel momento in cui clicchi ti arriva una richiesta, ti arriva una telefonata. Fa partire un WhatsApp. Ah, ok. Ok, quindi considera che volendo sull'annuncio a pagamento non sei nemmeno obbligato a farlo al sito. Che è totalmente diverso dal sito SEO. Un'altra tipologia di sito è l'e-commerce. Sì, esatto. Ecco, poi sul discorso indicizzazione, posizionamento, ne riparleremo. Ne riparleremo un po' più. L'abbiamo trattata un po' alla veloce. Giusto per dare una differenza tra un sito in una maniera e un sito in un'altra, però effettivamente anche lì si potrebbe aprire, tra virgolette, un mondo. Dobbiamo. E quindi giusto per far capire una specifica, mi sembra sensato. Adesso era bello avere una carrellata di tipologie, come funzionano, come si allestiscono e poi dopo eventualmente potremmo fare dei approfondimenti. Dovremo, perché c'è poco troppo. Sì, anche perché sono tematiche di tutti i giorni. Eh sì, è complessa, abbastanza complessa. E-commerce, quindi è un sito che vende, è una vetrina che però vende. Ed è importante dire questa differenziazione, questa specifica. Perché se io voglio vendere, non è scontato che il mio sito voglia e debba vendere. Se lo deve fare, lo deve fare con una logica di e-commerce. E la logica dell'e-commerce qual è? Principalmente che l'utente facilmente possa mettere il prodotto nel carrello, possa pagare e quindi ricevere il prodotto. Esatto, si tratta in una maniera abbastanza automatizzata, fino alla parte di pagamento e carrellamento, chiamiamola così. Da lì in avanti, dopo c'è l'operatore che deve spedire, però per assurdo. E poi se ci pensi, per esempio, un sito di e-commerce, siccome io devo vendere un prodotto, dovrò mostrarlo il meglio possibile. Sì, quindi qua come l'esempio di questo video di un sito che vende cappelli. Eh, io il cappello gli devo far vedere più angolazioni, più idee. Se ci sono più colori, eh, dovrò fargli vedere il colore perché questo non viene in negozio. Certo, perché il prodotto non va in negozio, ma lo sta vendendo direttamente. Se il cappello è bianco, rosso, verde. Chi o se ha delle cose da vedere o dei particolari da vedere da un altro. Eh, c'è poco da fare. C'è poco da fare, io quello devo mostrare. Poi dopo vai avanti, arrivi al carrello e puoi arrivare a un cumulativo di carrello per poi confermarlo, pagare e fare il check. Attenzione, è un sito, è una tipologia di sito totalmente diversa da quello che ci siamo detti. Un e-commerce potrebbe essere un sito SEO o un non SEO. Quindi anche il lato e-commerce tu puoi avere un sito indicizzato, chiamiamolo così, SEO, piuttosto che un e-commerce fatto però non per forza con indicizzazione. Perché magari utilizzi gli annunci a pagamento. Ah, ok. Quindi non fai SEO ma fai l'annuncio per spingere il tuo capello della situazione, piuttosto che hai fatto, non fai l'annuncio ma fai la parte di SEO. O magari utilizzi i social. Ah, anche sì. Quindi il traffico non lo porti da Google ma lo porti dai social. Quindi un'altra fonte di traffico. Una cosa secondo me comunque interessante da far sapere è che nel momento in cui uno non ha un sito SEO o comunque un sito indicizzato o un e-commerce indicizzato, quindi paga Google piuttosto che per avere la parte di indicizzazione, appena smette di pagare basta. Allora, il pagamento è sulla SEM, sugli annunci a pagamento. Ok, su quelli intendo, ma nel momento in cui tu spegni il pagamento. È una pubblicità, è come se tu fai la pubblicità sull'Eco di Bergamo, ok, o su Seila TV che è meglio. Esatto. Ok, questi qua è un po' politica questa, no, scherzo. Allora, chiaramente finché hai gli spot ti vedono, quando non hai più gli spot non ti vedono più, a meno che non rinnovi. È la stessa cosa per quanto riguarda quella parte lì. È la stessa identica cosa. Ok, ok, ok. Un'altra tipologia di sito è il sito mobile. Sì. Ok. Attenzione, qui uno dice, cavolo, ma certo il sito è sempre responsive. Sì, vero il sito è responsive. Però io ti sto parlando di un'altra cosa. Non è né responsive né mobile first. È proprio sostanzialmente un'app, ok, che però non gira all'interno degli store, Apple Store e Google Play, ok, ma gira sul browser, però lei è un'app, è un'app a tutti gli effetti. Cioè come utilizzo, come funzionalità, è un'app, però realmente non la stai scaricando, ma la stai guardando da un browser. E la puoi anche salvare come icona sul tuo cellulare. Assolutamente, adesso ci dovrebbe essere un contributo, poi lo vediamo, che è un'icona sulla scrivania del tuo telefono, di tutti e due tipi, che fa partire un'app, ma in realtà è un sito. Se tu togli la connessione, vedrai che quella app lì non parte. Non funziona più perché realmente sta lavorando comunque sotto, praticamente. È un sito. Ok, ok, ok. Quindi non è un responsive e tantomeno un mobile first, è un'app. È un'app. Molto probabilmente sarà anche mobile first. Sì, certo. Però sono due cose totalmente diverse. Nasce con un'idea di app. Nasce con un'idea di app e funziona. Quindi la fruizione, la navigazione, io ho il ditone. Ok, quindi riesci comunque a... I tasti grandi su una web app, ok? Non potrai mai farmi i tasti piccoli. Su un sito responsive potrebbe essere relativo. Ok, ok. La differenza è che diversamente da un'app, se io gli tolgo la, come si dice, la connessione... E non va. Perché non ha i contenuti, giustamente. Perché non viene... Non riesci ad andare a prendere i contenuti. E poi non viene salvato sulla memoria del telefono. Non è salvato il locale, ok. Non c'è niente di salvato sulla memoria del telefono. Non è più nemmeno questa qua che stiamo vedendo. Vedi questi puls... Questo in realtà è un sito, ma è come se fosse un'app. Ok. A tutti gli effetti, non è un... Sì, che ha i pulsantoni, sì, tipico di un'app praticamente. Il menu in basso. Sì, sì, sì. Sembra un'app, ma in realtà è un sito. In realtà è un sito, ok. Che vive su internet. Il menu, sandwich, tutte queste cose qua. Che per carità, anche i siti responsive hanno un qualcosa di simile. Sì, 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 sì. Ma non è la stessa cosa. Se io voglio fare una web app, attenzione che non è la stessa cosa di fare un sito responsive e tanto meno un mobile first. È un'altra... Sono proprio cose diverse, ok. Un po' quello che dicevi di te. Ultima tipologia, i gestionali web. Sì. Sì, esatto. Però se io ti porto a riparare il computer, tu mi rilasci un ticket. Sì, sì, sì. Diciamo che il ticket che viene rilasciato, tutta la parte di data entry, tutta la parte poi di processo che dal front office mi passa alla lavorazione in laboratorio, dal laboratorio passa in attesa prodotti piuttosto che in lavorazione. per poi ritornare al front office dove la ragazza o il ragazzo chiamano per avvisare il cliente che la riparazione è avvenuta. La fai tu tramite un sito? Eh sì, alla fine come utilizzo usiamo il browser e lo vedo come un sito. È un sito. Sotto un certo punto di vista. In realtà è un sito con user e password, chiaramente. Quindi ha anche più livelli di accessi. Io entro con il mio user e password, la mia collega col suo, l'altra mia collega col suo, il mio tecnico. Chiaramente i motori di ricerca non sanno dell'esistenza di quella roba lì. No, esatto, sì perché non è pubblico. Assolutamente, no? Cioè tu arrivi solo all'interfaccia pubblica, arrivi solo a, è esattamente così da vedere, arrivi all'interfaccia pubblica dove metti un utente password e poi da lì accedi a una zona, chiamala privata, se così posso definirla. Infatti io volevo mettere il tuo però non lo metto, se no scoprono i clienti. Esatto. No, comunque questa cosa qui, chiaramente il motore di ricerca non sa dell'esistenza di quella roba lì. Perché nessuno deve scoprire una keyword. Sì perché alla fine è un programma tra virgolette privato. Chiaramente c'è sempre la password, quindi per carità, però insomma non è il massimo. Sì, poi anche i database, una cosa che mi ricordo che mi avevi spiegato anche in funzione delle ISO, perché con le certifiche di qualità tu devi anche far sapere il database, come è gestito, quali sono i protocolli di accesso e di criptazione, abbiamo visto che anche sul nostro gestionale modalità web, oltre che alla password di criptazione dell'accesso dell'utente, c'è anche tutto il database che è gestito e fatto in maniera che non... E poi pensa tutto il discorso privacy. È certo, sì, 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 sì. Tu in realtà tratti pochi dati sensibili, alcuni sì, ma poco a loro. Sì, però il nome e cognome, c'è il numero di telefono per richiamarlo. Pensa un centro medico. Sì, certo. O piuttosto che una banca, che utilizzano allo stesso modo gestionale web, perché ormai sta andando tutto molto di lì. È difficile, tu non hai installato un software sul tuo computer. No, vai a prendere un link. Vai a prendere un link sul browser. Chiaramente lì la tutela della privacy deve essere gestita in un modo molto complesso. È un sito con delle caratteristiche totalmente diverse rispetto a quello che vi ho detto fin qui. Sì, perché sotto sotto alla fine è un programma. È un software, ma è un sito. Sì, ma ormai un'altra cosa interessante a dire è che tutta la parte di gestionali non sta più passando dalla vecchia versione server client, dove c'era il server che c'era installato la parte di database, la parte di accessi, la parte di dati, e la parte client o user, dove c'era installata la parte semplicemente di accesso e di gestione. Anche perché poi, cambiando i sistemi operativi, cambiando la parte di aggiornamento, di driver, cambiando il sistema operativo anche dalla parte dato server, era sempre un correre dietro agli aggiornamenti, dei problemi di porte, di policy, di librerie, eccetera, eccetera. Mentre invece con questa, e oltretutto, un'altra cosa interessante, tipo noi che utilizziamo solo Mac a livello di front office, con determinati altri software, compreso quello di fatturazione, per intenderci devo usare delle macchine virtuali Windows, perché non posso usare Mac, non funziona. Mentre con il tuo gestionale web. Mentre con il gestionale uso quello che voglio, da Mac a tablet, uso quello che mi pare. Impazzisci un po' per la compatibilità col browser migliore. Sì, ma neanche tanto. Però una volta che l'hai risolta, basta, è risolta. Anche tipo in ufficio da noi, tantissime persone usano Chrome, io uso Safari perché ho tutto sincronizzato con Safari. Se dico all'inizio, ci siamo un po' impazziti su un paio di cose. Sì, ma era solo per il discorso, però sì, ma non cambia niente, cioè concettualmente, però è bello perché così a me non mi interessa più, non devo avere il computer ultimo grido, non devo avere, questo l'ho visto dai clienti, non devo avere dei computer super mega potenti, perché tanti gestionali richiedono magari un buon processore, un tanta RAM, lì è un sito. Se ti va Google della situazione, è il server che sta lavorando. E comunque lavorerebbe il server anche con un sito server client, con un gestionale server client. Invece così vai a super snellire tutta la parte di client, ma super, e è molto più reattivo, molto più veloce, non vado a pesantire la linea, se devo lavorare come in questi periodi, in smart working da remoto, è tutta un'altra cosa. Attenzione, da cellulare. Da cellulare, sì, infatti. Quindi tu hai accesso alla tua azienda da cellulare. Sì, sì, sì. Cosa che se tu avessi un software installato, come fai a installarlo su un cellulare? No, è un problema. Poco, è poco. È un problema, anche se perché se magari il software è fatto per Windows, il cellulare è un cellulare Android, un cellulare iOS, devi comunque fare il porting, o comunque avere dei programmatori che te lo sviluppano per, e dopo devi correre dietro gli aggiornamenti, sia del lato Windows, lato Linux, lato Apple, lato iPhone, lato PCV. Così invece, infatti, io vedo anche grandissime aziende di gestionali, non magari TaylorMade, ma anche Colossi, che esistono da anni, le nuove release, cioè i nuovi aggiornamenti, sono tutti basati web, ormai, come concetto. Quello è un sito internet. Alla fine, alla fine, alla fine, è un sito internet. Sì, sì, sì. Io prendevo l'occasione anche, perché mi sono segnato appunto alcune domande che abbiamo recuperato dai social, un cliente mi chiedeva che deve aprire un nuovo punto di un'azienda o vuole ammodernare il suo sito internet. Quindi se posso dirgli che tipologia di sito sarebbe meglio consigliargli. Ti faccio un esempio per il negozio. Sì. Allora, se il tuo cliente vuole aprire un negozio in via 20 a Bergamo o dentro l'Oreo Center, probabilmente non è lui che deve portare la gente né in via 20 né tantomeno a Oreo Center. Ok? Quindi il traffico... Perché lì la gente ci va già. Ok. Il traffico c'è già. Ok. Ok. Però dovrà avere una vetrina che inviterà la gente a entrare nel suo negozio e non in quello a fianco. Non in quello a fianco, certo. Quindi in quel caso dovrà fare un sito vetrina che inviti la gente che già sta passando a entrare nel suo. Ok? Se invece il tuo cliente deve aprire un negozio in un posto un po' sperduto, in montagna o quello che è, o magari senza parcheggio o senza una serie di servizi, attenzione che dovrà portare traffico al suo negozio. Sul web per portare traffico utilizzi quei posti dove c'è tanto traffico, il motore di ricerca o i social. E fine. Oppure i grossi portali. Sì, sì, sì. Dove c'è tanto traffico. Quindi io ho fatto comunque un sito vetrina ma deve essere SEO. Ok. Perché deve essere adatto a portare traffico. Quindi a seconda anche di dove è e quali sono i suoi obiettivi praticamente deve... Nel caso del negozio proprio deve capire devo portarmi traffico o non devo portarlo. O devo fare in modo che mi trovino tra virgolette come... In più potrebbe essere devo vendere o non devo vendere. E quindi e-commerce o non e-commerce. Quindi un'altra cosa da poter far sapere alla gente è cosa serve, cioè cosa è meglio che la gente si prepari nel momento in cui vuole fare un sito. Primissima cosa deve darsi degli obiettivi. Ok. Devi darti degli obiettivi. Cioè cosa vuoi fare? Voglio avere più traffico, voglio vendere più prodotti, voglio semplicemente far vedere che sono il più bravo di tutti. Voglio magari far sapere alla gente che io sono... Io faccio siti ma in realtà faccio anche le app e tutti mi chiamano per i siti ma io sono bravo anche a fare le app. Quindi dovrai... Tramite il sito potrai far sapere cosa fai oltre al tuo core business. Queste sono le altre cose che fai. Ok. Quindi quelli sono obiettivi. Vuol dire avere degli obiettivi. Dopodiché devi sapere chi sei. Quindi devi capire i tuoi contenuti. Ma tu in realtà chi sei? Cosa fai? Cosa fai? Sei certo di saperlo? Ti ricordi che te l'avevo chiesto? Certo. Fammi un elenco di tutto quello che fai tu. Stendiamolo su carta. E dobbiamo avere davanti la panoramica di tutto quello che fai tu. questo molto prima di scegliere la grafica del tuo sito. Certo. Molto prima. Così hai diciamo la base e le fondamenta per poter capire che cosa... Obiettivi e chi sei. Certo. Ok. E chi sei guardate credimi è importante perché poi chi sei se l'obiettivo è SEO e chi sei allora arriverai a definire anche le keywords. Certo. Ok. Infatti quelle sono una delle non dico delle ultime cose ma nella realizzazione è dopo tutto questo passaggio che l'abbiamo ragionato anche per noi. Perché abbiamo deciso che l'obiettivo era essere presenti tra l'altro non con tutto se ci pensi perché alcune keywords abbiamo deciso di farci trovare per altre abbiamo deciso di no perché non era tuo interesse di farci trovare. Sì, sì, è vero. E dici no io lì non voglio avere su alcune sì chiaramente sì. Sì, sì, magari quelle più importanti o comunque quelle più interessanti. a seconda del business quindi obiettivo poi io ma io ok ho l'obiettivo di vendere più Mac ma io li vendo i Mac sì li vendo ok perfetto ci deve essere corrispondenza. Ci deve essere corrispondenza. Sì, sì. Decidendo chi sei tu potrai anche ottenere più obiettivi quindi gli obiettivi possono aumentare. Terzo step la grafica. Ok. La grafica parliamoci chiaro in questo momento è forse allora a meno che tu non debba fare quel famoso sito vetrina dove l'utente tra te e un altro deve decidere di entrare a te. Quello che gli piace di più praticamente ok. Però attenzione abbiamo detto che l'utente passa già sì. Ok. Allora è un sito vetrina. Se no della grafica non dico che te ne devi fregare ma più o meno perché? Perché in questo momento il traffico è principalmente mobile. Ok. Ormai nel 90% dei casi è più mobile che del sito. La gente cerca velocemente sul cellulare per andare all'obiettivo. Ma soprattutto vede il tuo sito sul cellulare lo schermo del cellulare è piccolo. uno è piccolo due la grafica fa perdere tempo l'utente non ha tempo da perdere quindi è chiaro che devi fare un sito bello. Sì ok. Ok. Però non puntare tutto esclusivamente sulla parte grafica. E soprattutto se ti propongono un template ti dicono ti piace questo sito tu dici oh fighissimo. Ok. Senza averti chiesto quali sono i contenuti stai facendo un errore enorme. Stai facendo un errore sì. Ti lasci prendere che dici cacchio fighissimo però realmente per come devi usare lo testo e gestirlo. Poi soprattutto quando inizia a metterci dentro i contenuti lo rovini talmente tanto che da bellissimo diventa bruttissimo. Esatto. Ok. Perché magari sai quel template prevedeva otto sezioni ma tu ne hai tre e nelle altre cinque cosa ci metti? Sì. E se le togli diventa schifoso. Diventa schifoso. Sì sì. Perché era meglio perché ne aveva otto. Quindi era meglio ragionarci prima. Quindi vedi che di grafica ne parliamo ben oltre. Dopodiché chiaramente devi avere un software un po' come quello che dicevamo che gestisci i contenuti. Ok. Dovrai decidere se il tuo sito è dinamico o statico. Dinamico cosa vuol dire? Che tu perché dovrai caricare i prodotti dovrai ricevere gli ordini dovrai gestire l'ordine ordine ricevuto ordine operazione quindi per forza è dinamico. Se fai un sito vetrina e magari tu di contenuti ne cambi uno ogni sei mesi non te ne frega niente che sia dinamico. Eh no certo. È statico qualcuno quando dovrai cambiare magari anche più di una volta anche meno di una volta ogni sei mesi farà le modifiche. Farà le modifiche ci lavora sopra e fine. Tanti siti hanno le news ok. ma sono da tenere le news. Eh ma sei sicuro che hai le news perché se la news una volta all'anno e io entro e vedo che la tua ultima news è di un anno fa sembra che è una roba dimenticata. È capito fai addirittura brutta figura. Sì sì bisogna proprio studiarla in funzione di quello che ti serve. Se hai le news probabilmente sarà dinamico ok quindi devi avere questo software esistono velocemente WordPress che è un sistema che ti permette di gestire tutti i contenuti ok oppure esistono come facciamo noi i siti fatti i siti fatti su misura utilizziamo lo stesso linguaggio quindi il motore sotto che lo gestisce invece che essere WordPress che alla fine è un programma che va a installare che ce l'hanno tutti ok quello tailor made come nel vostro caso è realizzato da voi mantenuto e gestito su misura rispetto agli obiettivi e ai contenuti certo in funzione di tutto quello che abbiamo detto precedentemente uno va proprio invece che a riadattare un sistema generico con mille pro e mille contro allo stesso tempo va a fare anche ok quindi sul pro e contro il WordPress torneremo perché adesso il tempo è un po' andato magari quello lo possiamo vedere quando parleremo di SEO esatto in modo da capire magari come si può gestire una cosa con un sito internet non made piuttosto che con un sito internet ci torneremo perché è da approfondire ci sono i pro e contro non è che non è che è tutto bello o tutto brutto a me WordPress non mi ha fatto niente di male esatto però ha senso visto che ci sono tante possibilità ha senso comunque capire ho scelto di non usarlo ma è una scelta ma non mi ha picchiato non ti ha sì sì è normale è normale è normale è più piccolo sì 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 ok l'ultima cosa velocissima perché questo dobbiamo dirla hosting ah sì la base di hosting questo ok è una roba che normalmente gestisco io sì l'hosting sostanzialmente è la parte è la parte un po' più tecnica dove si va ad appoggiare il sito diciamo che è dove vive il sito internet dobbiamo semplicemente sapere che l'hosting si può dividere in due sezioni ovvero la parte di nome quindi www.pincopallino.it che è il nome chiamato anche DNS e la parte proprio di hosting dove si va ad appoggiare il sito quindi uno è un nome che semplicemente va a far puntare un IP un indirizzamento IP perché in internet non esiste il nome stefanobiffi.net cioè esiste perché c'è un DNS ok ma realmente se lo si va a vedere è un IP è un IP pubblico che viene associato a questo nome e va a puntare praticamente su questo spazio dove c'è installato un programma normalmente nell'hosting vengono installati dei programmi che servono per far vivere per far vivere i siti internet questi programmi o questi hosting possiamo suddividerli ulteriormente con i più famosi sono Linux o Microsoft praticamente in funzione di che sito si andrà a realizzare quindi un sito tailor made un sito WordPress per assurdo deve avere un hosting Linux mentre un sito perché usa il PHP perché usa PHP e usa praticamente database e motori compatibili o comunque che funzionano con Linux mentre invece che ne so un sito internet scritto in .net con pagine ASP ha bisogno di un hosting Microsoft dobbiamo semplicemente ricordarci anche che gli hosting come siti internet hanno bisogno di manutenzione perché sia l'hosting stesso che il programma che gestisce la vita del sito va aggiornato sia in termini di sicurezza in termini di prestazioni se è un WordPress perché se è un tailor made se è un tailor made che è molto molto più leggero questa cosa infatti anche lì il tuo sito non l'abbiamo mai aggiornato è vero a livello di motore non dobbiamo aggiornarlo perché allora il WordPress deve essere aggiornato sì anche per la sicurezza e deve avere un hosting che sostenga il WordPress esatto perché se no 9 su 10 mentre il tailor made essendo disegnato su misura è molto più leggero è uno dei pro non si trascina tantissime cose che possono servire ad altro ma se non le usi sono lì eh sì che devi comunque tenere aggiornato se no hai dei punti di rottura dove la gente perché WordPress ce l'hanno in tanti certo quindi lo conoscono in tanti ok quindi è più semplice bucarlo è certo è più semplice attaccarlo rovinarlo far cadere una misura uno prima di bucarlo deve scoprire come è stato fatto certo è lo stesso linguaggio è lo stesso linguaggio però quindi l'aggiornamento è fondamentale è fondamentale per la parte WordPress fondamentale non serve non serve ultima cosa invece da dire per quanto riguarda sempre la parte di hosting è che gli hosting normalmente per i siti vetrina o per l'ending page sono hosting condivisi quindi vuol dire che su un server ci sono n macchine virtuali e su queste n macchine virtuali sono n siti internet mentre invece per casi più particolari come possono essere gestionali o e-commerce tante volte si va a dedicare una macchina virtuale vuol dire uno spazio cioè un server dedicato a quella a quello specifico servizio quindi a quel motore di ricerca piuttosto che a quel gestionale dove il nome pincopallino.it va a puntare direttamente su questa macchina virtuale che è dedicata interamente a questo sito internet lì in automatico si andrà a gestire anche la parte di banda perché voi immaginate un conto la gente che per quanto abbiamo tantissime visite un conto è le visite che prendiamo noi come HK Style o le visite della gente che va a vedere Amazon cioè capite che la molle di gente che si collega è totalmente diversa quindi Amazon della situazione avrà bisogno di n server dedicati e di una banda internet molto più ampia per poter sostenere tutta questa le richieste quindi anche quello diciamo che anche la parte hosting non sembra ma è anche quella molto tailor made perché in funzione di che sito si sta facendo se no si rischia magari di avere un sito super performante ma un hosting che non è molto veloce e va a finire che si va a rovinare tutto il lavoro che è stato fatto anche perché Google uno dei primi parametri che controlla è la velocità del server la qualità è la velocità del server infatti se noi andiamo a vedere quando tu cerchi qualcosa in Google ti dice un risultato di tot secondi di tot migliaia di siti questo è perché più l'hosting è spinto quindi anche lì potete capire che dai grossi provider che vi vendono hosting ci sarà una differenza tra l'hosting che costa 29 euro all'anno e quello che magari customizzato ti va a costare dai 100 200 500 euro in su all'anno per delle macchine virtuali che per assurdo anche quelle potrebbero costare dai 100 150 euro mese a servizio dipende proprio è proprio un escalation però se hai 2000 visite al giorno non puoi pensare di farcela con 29 euro all'anno esatto perché comunque si andrebbe a strozzare il collo di bottiglia di potenza e di fruibilità della parte del sito è come far passare 2000 persone in una stradina è normale qualche casino si crea questo era solo per farvi capire che indipendentemente dalla tipologia di siti e indipendentemente da quali sono gli obiettivi e tutto quello che abbiamo visto finora è importante anche il motore sotto perché diciamo che l'hosting è il parcheggio dove c'è il programma che fa vivere questo sito che sia tailor made che sia una landing page un'app o quello che è comunque c'è sempre un hosting di dietro che alla fine è un server però bisogna tenere in considerazione quale e come customizzarlo io direi che secondo me come panoramica per quanto riguarda la veloce carrellata dei tipi di siti internet come farli come realizzarli perché sceglierlo in company l'abbiamo vista direi sì secondo me sarebbe utile fare rivederci un domani per andare a approfondire magari determinate categorie o determinate determinate cose come il SEO piuttosto che come le app piuttosto che gli e-commerce ok e magari anche lì non può anche wordpress anche tutta la parte di wordpress perché comunque è straconosciuto e un sacco di gente anche nelle domande che pian piano stiamo stiamo ricevendo ci chiede ma wordpress è meglio ma possiamo usarlo quindi secondo me avere una panoramica perché ormai ridendo e scherzando tutti hanno un sito internet quindi dare più informazioni più uno conosce sia la parte di siti che la parte di hosting più riesce a non prendere fregature e avere un'idea di effettivamente su cosa devo investire quanto e perché e quindi secondo me è un'ottima ultimissimo consiglio non partite dalla grafica ah beh quello abbiamo capito benissimo la vediamo la vediamo dopo esatto deve essere bello deve essere bello deve essere bello però non partite dalla grafica esatto che era lo stesso errore che stavo facendo io all'inizio vedevo mille siti poi alla fine mi fa si ma guarda un momento gli obiettivi e altre robe e dopo avendolo fatto come processo posso raccontarla nel senso come intanto grazie Pietro per la disponibilità e per la spiegazione sicuramente ci vediamo per altri argomenti magari ce li suddividiamo così riusciamo a fare dei focus specifici su determinati servizi come sempre e come ogni fine puntata ricordo a tutti la nostra mail rubrica chiocciola pillole di tecnologia punto tv dove poterci scrivere altre domande da poter esporre durante le puntate o temi da gestire sempre qua in studio con vari ospiti grazie ancora Pietro per essere venuto grazie a te questa puntata e come sempre ci vediamo alla prossima grazie a te Grazie a tutti.